Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini, questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo al controller che non funziona sul gioco e del Ranger quindi in questo caso è possibile risolvere il problema andando direttamente su Steam qua, vai direttamente su impostazioni, scendi fino a giù fino a trovare così il controller ed ecco la nome del controller, questo è un controller Xbox 360, me lo segna così però non è un controller della Xbox vibrazione in gioco, scendi fino a giù fino a trovare così abilita Steam Input per i controller Xbox quindi abiliti così questo input, stessa cosa anche con lo Switch Pro e per altri controller generici e supporto per i controller PlayStation At una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente nella modalità Big Picture visualizza modalità Big Picture attivo così il mio controller ed eccolo qua che funziona vado direttamente su Elder Ring vado direttamente su Elder Ring vado su controller ed eccoci qua su layout, vai direttamente su layout ufficiali per Elder Ring consigliate, mi ha consigliato questo quindi ho scaricato questo e ho applicato così questo layout sul mio controller layout, questo qua è il layout della comunità, tu qua puoi scaricarli puoi scaricarli, quindi schiacci la X scarichi così il layout e lo applichi con la X, stessa cosa come puoi vedere in basso a destra applica layout se non dovesse funzionare possiamo direttamente su gestione dispositivi quindi vai direttamente sul tasto destro su Start qua sopra gestione dispositivi vai direttamente su periferiche, le tue periferiche quindi il controller se lo tieni qua oppure se c'è un triangolino giallo vuol dire che non funziona quindi ha smesso di funzionare tasto destro sopra sul controller e fai direttamente disabilita il dispositivo e fai riabilita oppure aggiorna così i driver cerca i driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer quindi controlla Xbox 360 per Windows clicchi sopra, scarichi e installi così l'aggiornamento per il tuo driver se non dovesse funzionare puoi direttamente disinstallare così questo dispositivo e riavviare il tuo sistema operativo e reinstallando così quindi ricolleghi di nuovo il controller al tuo computer o con chiavetta wireless io tengo direttamente la chiavetta wireless oppure cavo USB oppure Bluetooth mi resta che entrare direttamente su Elden Ring puoi direttamente entrare su Elden Ring attraverso la modalità Big Picture per essere più sicuro che il controller funzioni perfettamente sul gioco quindi modalità Big Picture avvio così il gioco e faccio il gioco il controller a me funziona faccio continuo ed eccolo qua quindi per altri problemi ancora puoi commentare il suo video noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao